Ciao a tutti ragazzi, eccomi nel nuovo video Oggi vi faccio vedere la mia bellissima classe Ci abbiamo il mio primo... Video? No, il mio primo indigeno Indigeno, indigeno, questo è un indigeno Qui ci abbiamo gli altri tre Intelligente e stupido più stupido Per chi non avreste capito Ma vabbè la mia classe... Smetti, io sono il regista, fai quello che mi pare schiappa Allora, questa è la mia bellissima classe Sperando che non entrara proprio Perché guarda scatolo, guarda serbano, guarda serbano Guarda serbano, guarda serbano Dai, dai, dando piano Dai, dai vä organizational Dai chiedito Non mi manda SIII Evviva Levati Chi corre per이면 la vista Non entra la dalla torta Dai No, dai Quali è il tuoイ é il tuoiccato Ti levi meravigliato? vabbè questo è tutto non so perché ho fatto questo video ma mi hanno costretto perché sono in ginocchio e sono in catene non ci posso fare niente non vi farò mai vedere la mia fascia neanche se mi pagate mai